toc toc e hai dovuto leggerla voglio raccontarla bene toc toc chi è e la polizia può aprire un ubriaco ha investito suo figlio e deceduto intendo da quando ho ucciso quei tre di wall street ok stiamo aspettando la battuta non c'è la battuta non sto scherzando tu sei orrendo marre io orrendo in che modo sarei stato orrendo mandando il mio video invitandomi al tuo show volevi solamente prenderti gioco di me sei come tutti gli altri tu non sai un bel niente di me amico guarda quello che hai fatto cosa ha portato cosa ha causato ci sono delle sommosse là fuori i due poliziotti sono in condizioni critiche e tu ridi tu ridi qualcuno è stato ucciso a causa di quello che tu hai fatto critici di un'altra barzelletta no ne ho abbastanza delle tue barzellette cosa ottieni se metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia ti dico io cosa ottieni ottieni quel cazzo che ti meriti che ti meriti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente può più frirmi ormai. La mia vita non è nient'altro che una commedia. Fammi capire bene, tu pensi che uccidere di uomini sia divertente? Certo. E ne ho abbastanza di fingere che non lo sia. E ne ho abbastanza di uomini sia divertente?